Hello everybody, sono Valentina Boi e sono qui per invitarvi alla premiere di Fanciulla del West a Cluj-Napoca. Sarà un'opera veramente bellissima e molto interessante perché è l'opera in cui Puccini esprime tutta la sua idea di musica. Io sono sicura che sarete molto interessati di sentire questa bellissima opera e in questo magnifico allestimento che è stato fatto adesso per questa premiere. Io vi invito tutti a vedere l'8 maggio questa bellissima opera. Grazie. Grazie a tutti.